Non devi solo spogliarti, ma scatenare le fantasie di ogni donna. Sei l'avventura di una sola notte, quella che avranno con te sul palco. Channing Tatum, Alex Pettifer, Matthew McConaughey. La regola numero uno è un elenco di cosa si può o non si può toccare. Potete toccare questo. Potete toccare questo. Na 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 na. Andiamo avanti. Potete toccare questo. Potete toccare questo. Na 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 na. Mi dispiace, la legge dice che voi non potete toccarlo. Ma vedo tante faccine birbanti qui dentro stasera. E non c'è nessuno sbirro in questa sala. Magic Mike. Al cinema. Ru naglaş. Ma vedo tante faccine. No higher. Ma vedo. Grazie a tutti.